Era scaturito dall'ultimo comitato per l'ordine della sicurezza, convocato in prefettura a Udine alcuni giorni fa l'intensificazione dei controlli nella zona di via Leopardi. Ed ecco che la zona è stata passata a setaccio. In campo polizia di Stato, carabinieri, polizia locale, unità cinofere della Guardia di Finanza, con il supporto dei reparti di prevenzione crimine dalla polizia di Stato provenienti da Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna, utilizzati anche nell'ambito del contrasto all'immigrazione clandestina dalla rotta balcanica. 190 le persone controllate, 19 i veicoli e 47 esercizi pubblici. Due persone sono state sanzionate perché trovate a bere alcolici in strada in una zona vietata. Un cittadino italiano è stato accompagnato in questura e indagato per resistenza e rifiuto di dare le proprie generità. Disposto un ordine di espulsione nei confronti di un cittadino straniero, non in regola con la normativa sul soggiorno in territorio nazionale. è sequestrato 386 tra lattine e bottiglie di birra poste in vendita in violazione dell'ordinanza del sindaco di Unina, con contestuale multa di 200 euro.